Una rete gigantesca che dai paesini della Locride si estende fino al Sud America, passa per l'Europa e trasforma fiumi di cocaina in immobili, imprese, attività, soldi. 90 persone sono state arrestate da polizia, carabinieri e guardia di finanza nel corso di un'operazione coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e da quella di Reggio Calabria nell'ambito di un'inchiesta che è stata in grado di varcare i confini nazionali. Per la prima volta l'indagine è stata sviluppata da un vero e proprio team europeo di inquirenti e investigatori di paesi diversi, ma con un obiettivo comune, colpire l'andrangheta e le reti di supporto che in tutta Europa hanno permesso non solo di importare droga, ma anche di riciclare e reinvestire i profitti che ne derivavano. Un lavoro durato anni, frutto di un coordinamento vero e reale, che questa mattina ha portato all'arresto in contemporanea in quattro diversi paesi, Italia, Belgio, Olanda, Germania e Colombia, di 90 persone, tutte accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, intestazione fittizia di beni. Nel mirino, gli storici casati di indrangheta della Locride, i Pellevottari di San Luca, i Jetto di Natile di Careri e gli Ursino di Gioiosa Ionica, pionieri del narcotraffico internazionale e tuttora specialisti del settore. All'alba più di 30 sono finiti in manette, incluso il reggente del clan Pelle, erede del potere dello storico patriarca Antoni Ngambazza. Secondo quanto emerso dalle indagini per l'Italia coordinate dal procuratore capo della DDA di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri e dall'Aggiunto Giuseppe Lombardo, registi dell'affare sarebbero stati proprio i Pelle, che con il supporto degli altri casati storici della Locride avrebbero strutturato la rete che ha permesso di inondare all'Europa di tonnellate di cocaina smistata anche grazie a solide base logistiche costruite in Germania, Belgio e Olanda. E' qui che sarebbe stata individuata una vera e propria organizzazione criminale composta per lo più da soggetti di origine turca, specializzata nella creazione di doppi fondi di auto e camion, poi incaricati di smistare le diverse partite di droga nei vari paesi. Un blitz contro l'Andrangheta e le sue ramificazioni all'estero dunque. Del gruppo di investigatori che hanno condotto le indagini per l'Italia fanno parte anche la squadra mobile di Reggio Calabria, lo SCO di Roma, la sezione GOA del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, lo SCICO di Roma e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.